buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gps esaurite per diverse classi di concorso ma non tutti stanno lavorando e parleremo in generale delle gps delle supplenze sia da gps ma anche da gradatore d'istituto andiamo alla prima domanda è vero che in diverse province italiane si riscontrano le gradatore provinciali per le supplenze esaurite sì questo è assolutamente vero ma è necessario aggiungere che l'incapienza delle gps è causata principalmente dal funzionamento dell'algoritmo che salta gli aspiranti che non hanno espresso tutte le preferenze possibili in fase della scelta delle famigerate 150 preferenze dunque l'algoritmo li salta non torna indietro e dunque più rapidamente tende a esaurire le gradatore dunque per un motivo questo esaurimento delle gps proprio del funzionamento del dell'algoritmo questo accade anche per le gae per dire il vero andiamo avanti alla seconda domanda quali classi di concorso in quali province sono esaurite allora elencare tutte le province e le relativi classi concorso con gradatori gps esaurite una cosa molto complicata per conoscere queste informazioni queste informazioni in modo dettagliato sarebbe utile visionare i siti istituzionali gli uffici scolastici provinciali di tutta italia dunque andare a fare un lavoro di ricognizione provincia per provincia sito istituzionale di ambito territoriale provinciale di ogni provincia che interessa noi possiamo dirvi che per quanto riguarda la classe di concorso della scuola primaria e e e e in provincia di torino si è esaurita la gradatoria il sostegno per la primaria napoli si è esaurita la gradatoria bologna si è esaurita sia l'infanzia che la primaria di posto comune ma tante altre province hanno gradatori esaurite in varie classi di concorso domanda numero 3 si può lasciare una supplenza da gradatoria di istituto fino al 22 dicembre 2024 con un'altra supplenza sempre da gradatoria istituto ma fino al 30 giugno si si può lasciare una supplenza breve da gradatoria di istituto per un'altra sempre da gradatoria di istituto ma fino al 30 giugno oppure al 31 agosto mentre non si può lasciare una supplenza breve del di gradatoria di istituto per altra supplenza breve da gradatoria di istituto esiste però un'eccezione l'eccezione per le supplenze riferite al decreto legge 71 2024 ovvero sia quello delle catre che sono occupate momentaneamente da gradatori di istituto e sono quei posti accantonati per il concorso pnr costoro che occupano questi posti potranno lasciare la supplenza anche per un'altra supplenza breve di istituto questo è quanto speriamo che le risposte a queste domande possono essere utili a tutti gli aspiranti a una supplenza ci aggiorneremo prossimamente con dirette riferite a tale argomento e con articoli ma anche con altre rubriche come appunto a domanda risponde arrivederci